ANSA, Roma, 17-8, nel giorno in cui Alberto Zaccheroni viene presentato come nuovo CT della Nazionale di Calcio negli Emirati Arabi, nel corso di una conferenza stampa a Dubai, anche un altro sportivo italiano sbarca ad Abu Dhabi. Si tratta di Fabio Aru che, dopo aver lasciato il team kazako della Stana, e ha firmato un contratto di tre anni con l'UAE Emirates. Diamo il benvenuto a un campione come Fabio Aru, le sue qualità si abbinano alle ambizioni della squadra, fa sapere il team manager Carlo Saronni.Oltre al suo enorme potenziale è un corridore capace di suscitare la passione dei tifosi, ed è amato per la propria generazione. Generosità in bici. L'atleta sardo contribuirà con le sue prestazioni a veicolare un'ottima immagine del team, e a raggiungere importanti traguardi agonistici.